Nel cuore di Casalecchio di Reno continuiamo la tradizione della gioielleria di famiglia fondata dai nostri genitori nel 1964. Il nostro laboratorio certificato di orologeria nasce nel 1964 dalla passione e la competenza di nostro padre Bruno. E' proprio qui che ci prendiamo cura degli orologi che segnano il vostro tempo. In due parole, Cevenini gioielli.